La mitica discesa di Jaffi Fa 8 anni Grande Ma che c'è? Ma che c'è? C'è pannello? Ah! Ma che pari messi? Vedi? Vedi cosa succede? Ci fate caso? Malattia da fiera, malattia da fiera Eh la voglia Ma che è una bella malattia dai C'è un mondo qua Grande Che dici? Che dobbiamo Com'è finora? Eh la febbre addosso c'ho Già fatto buoni acquisti il nostro lavoro Eh già Si è dato già la pazza Si è dato già la pazza gioia Eh Bravo bravo Così si fa No spesso poco Sabrina poco No no tutto a posto abbiamo controllato noi Non ti preoccupare lo stipendio non ce lo lascio Guarda lì Guarda lì Griflofina E' per me Spider E' per me E' per me Si è facile Si è facile Si tu mi preoccupare io Mi porterò ore e ore di filmati Ecco davide che mi riprende Lui riprende mi riprende Ci riprendiamo Andiamo un po' di panorama Eh che maraviglia Scusami Prego Valeria Ti prendo pure io C'è anche me Vai ancora Ok ma tu sei un regista Eh Ma ragazzi non ce l'ho Abbiamo un camera Menni è un operatore cinematografico Eh E poi la fotografa ufficiale E la fotografa Eh Valeriucia In ufficio non ne passano più Ogni volta che c'è una besticciola Così io si Se l'attacco Se vuole fare Cristian Grazie Alex Andiamo Ciao Valeria Ciao Mitico Eh Visto già Vai ci buttiamo in mezzo agli stemmi Guarda questo è fighissimo Ah questo si Con la riproduzione in 3D Fantastica Ci fanno Allora Supercar Supercar Sì 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 Bella Supercar Bella Ce la compriamo L'avevo trovato io la Supercar 3400 euro Una Pontiac Firebird In America Del 1402 Del 1987 Però doveri poi customizzarla Per farla Ma quella Questa è Questa è Questa è Questa è Lui Mi fa un pazzino Siamo pagati Per gli sposi L'acquisto di Giaffi La serie completa Del mitico Gundam Tanti 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 Per una settimana ne hai la legge Com'è? Ciò dal bagno finisco Intanto tu la notte vegli Sì Sì no no questo è E' un bel manga veramente Ma per me Bumba nessuno E' un commento a caldo Troppo grande Troppo grande Ma che è quella Statua di Sensei A limited edition Eh? Una statua di Sensei A limited edition Un cartone enorme Credo Credo che sia Crystal Crystal in cosa Cosa Tipo quello che hanno fatto Di Sire del Dragone Con i 100 draghi Eh Credo sì Perché dietro Si ha delle colonne I cigni I cristalli Guarda Io l'ho scattato Perché l'ho visto altre volte Quella scatola L'ho scattato C'è parecchio che gira Solo in fiera L'ho scattato Dopo qua E Costerà un po' po' C'è parecchio Gundam Amici miei sono Peter Ray Gundam Gundam Oh 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 Si è vero La canzone è bellissima Gundam Gundam Ma che c'ha le orecchie della cane quello Beh Oh e lo speng Che bello C'è Zaffiro Quando a posto C'è Zaffiro laggiù Vedi Sopra la cacca di Arale Ah tu dici la salute La statuetta di Zaffiro Ma il comicon L'ho presa 40 euro 35 euro 30 38 Ho faticato un po' a trovarlo perchè è andato fuori stampa ormai Infatti è un'edizione vecchia ancora ribaltata Immagino Eh La serie completa di Lost Canvas C'è Bravo Ce l'hai amato completa 90 euro No Fallito? Io sono per la serie storica sono sincera Se si può se no Ma questi sono già pronti? Due serie Io la mi apre L'avevo detto che erano pronti per io Si 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 Io pensai che quasi quasi Grazie Grazie ma mi la vediamo a trovare un mazzo Ma se ieri Mi la vediamo in forza Se non vedi tozzo in te Sono bellissimi Dai Questo è vicino al Sock eh E andiamo 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 Io voglio quello come quello tuo Che stanno i tre getter C'è quello Ah tu dici l'Aktarus Si Eccolo Eh lo voglio Eccolo Eh ma io Principe Kenke Mi prendo L'Aktarus normale L'Aktarus normale Guarda la Kira Quella l'abbiamo fatto a Niki pochi mesi fa E' bellissimo Bello eh I tre piloti getter Iroshi seconda trasformazione Miva Troppo figo Guarda i Roshi Iroshi seconda trasformazione E' bellissimo Io però i tre zambri ho ottenuto Io prendo pure lui Mi lasciamo Questo Quello E' quello C'è un brazzo dimmi Questo Quello Questo se lo prende Davide Già la Già la è sicura al 100% Si no Questo Questo Quello E' quello E' anche quello Ah ma Il trio con Agai Il trio con Agai E io mi sa Eh No io i tre piloti già Io si No io ne prendo quattro E con quello quattro E' un po' Ah Ma ci eriamo No ma Dimi che li devo togliere Perché troppi che Allora 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 Allora